Verrà svolta domani l'autopsia sul corpo di Francesco Ciammaichella, l'uomo di 40 anni ritrovato morto mercoledì pomeriggio nel suo mini appartamento di Via Albanese, nel quartiere popolare di Sant'Anna a Chieti. L'esame affidato al medico legale Cristian Dovidio servirà a fare maggiore chiarezza, escludendo la pista di un possibile incidente. Per ora l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio, ma gli investigatori indagano a tutto campo. Francesco, ragazzo taciturno, con dei precedenti di polizia, percepiva il reddito di cittadinanza e viveva da solo. La compagna è morta lo scorso anno a causa di una malattia. I carabinieri nel monolocale privo di energia elettrica hanno trovato e posto sotto sequestro una mazza da minigolf, ma per capire se tale oggetto possa realmente essere l'arma del delitto, sono indispensabili ulteriori accertamenti. Francesco, mercoledì pomeriggio, è stato trovato privo di vita sul pavimento della sala da pranzo con una ferita alla testa. I militari stanno continuando ad ascoltare amici e conoscenti per cercare di scoprire se e chi poteva avercela con lui, tanto da ammazzarlo. Nel mini appartamento, posto sotto sequestro, è stato svolto un accurato sopralluogo da parte del medico legale e del PM, Giuseppe Falasca, che coordina le indagini.